Don Pietro Mene conduce la fede dell'uomo. Ogni domenica alle ore 9. C'è un'insistenza nel tempo pasquale del legame tra la risurrezione del Signore, la Pasqua, cioè è la vita battesimale che nelle comunità parrocchiali è quotidianamente, perennemente richiamata dal fonte. Tra l'altro il nostro fonte ha questa caratteristica che è l'acqua sempre zampillante, per ricordarci come il mistero della vita, quella che viene da Dio, è un dono continuo, è un dono sempre nuovo. Il legame c'è nel fatto che come l'acqua dà la vita alle piante, alla natura, all'uomo, noi infatti nasciamo dalle acque, le piante senza l'acqua muoiono. Così anche nella fede. Quell'acqua che richiama Cristo è il segno che noi possiamo essere perennemente vivi, soltanto a condizione che la Pasqua del Signore non sia una celebrazione, ma sia uno sgorgare dell'acqua viva dentro di noi, come un fiume noi ci accostiamo a Cristo Signore riconoscendo nella sua vita la possibilità della vita. e questo prende forme diverse. Sia coloro che vivono in una comunità, che il Vangelo di Luca e poi soprattutto gli Atti degli Apostoli ci presentano come una comunità viva nella quale nessuno aveva bisogno perché l'acqua viva, sgorgante, zampillante che è l'amore di Cristo faceva sì che ognuno mettesse a disposizione degli altri i suoi beni come Cristo aveva messo a disposizione di tutti la sua vita. Il Vangelo ci ricorda come dal costato del Signore sulla croce sgorgò sangue e acqua questo mistero dell'amore e della vita. E quindi vogliamo davvero riconoscere in ogni fonte battesimale in ogni chiesa nella quale siamo stati battezzati il luogo nel quale abbiamo avuto questo primo incontro con il Signore della Prima. Direi due cose in maniera essenziale. La prima, cerchiamo di recuperare la data, il luogo dove abbiamo ricevuto il battesimo e, seconda, facciamo visita alla chiesa dove siamo stati battezzati. segniamoci con l'acqua del fonte battesimale per ravvivare questa nostra fede, cioè questo entrare con Cristo nel fonte e uscirne rigenerati come persone vive, come risolte. Buon tempo di Pasqua a tutti. Don Pietro Mene conduce la fede dell'uomo. Ogni domenica alle ore nove.